Minecraft, ma non posso toccare l'erba Ok ragazzi, speriamo di non spawnare sull'erba, ecco Ti prego dimmi che non c'è l'erba sotto di me Ma quel c'è anche è morto Che culo, cioè ragazzi, sono troppo forte, sono troppo forte Allora, tra l'altro farò una sorta di speedrun perché il mio obiettivo è uccidere il drago Esatto, passiamo col rompere i blocchi sotto di me, questi qua Adesso spawnare l'erba, prendiamo più sabbia possibile Ok, poi uno sotto di me, uno qua Comunque ragazzi, sono troppo forte, quasi nessuno ha fatto questa challenge Quindi, ok ragazzi, è l'ora direi subito di andare da questo villaggio, assolutamente Ragazzi, sono troppo forte Eeeh, 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 qua dovrò rompere questi Oh là, ovviamente posso rompere i blocchi, non me ne frega nulla, eh, ragazzi Poi sto pure rompendo il blocco dalla parte della terra, quindi Rompiamo tutta questa gravel così Che possiamo usare, ok ragazzi Facciamo così, facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Oh, ma sono troppo forte ragazzi Eccole qua Prendilo, prendilo, prendilo Prendilo Niente, non lo prende Adesso farò il record mondiale di speedrun, lo so già Comunque, continuiamo con l'esplorazione di questo villaggio bellissimo Deve, si, amplia Scusate, era più forte di me Comunque Oh, c'è un fabbro Deion Uh, ma no, quella non è erba, quindi c'è Neanche questa, però Io la supero lo stesso Chest, vediamo un po' cosa c'è Eeeh, full iron Full iron Iron Pane e una spada Assurdo, raga Facciamoci Una bella Ascia E con i restanti due Direi di farci Una bella zappa Perché è sempre utile Ragazzi Avete capito ragazzi Sono troppo forte Comunque Vediamo qua Eeeh Piccone in diamante Attenzione Tantissimo iron Ossidiana Eeeh Piedini che in realtà Non mi servono Quindi li lascerò qua Allora ragazzi Adesso Ma i broni Iniziato a coltivare qua Oh bro Bro Why 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 are you doing This Vediamo Oh Un portale Assurdo Andiamo verso Quel portale Qua c'è pure Della lava Però Non penso Mi serva Prima andiamo Dal portale Allora Eeeh Il portale è quasi Completato Damn Ragazzi Allora Io ho già Dell'ossidiana Ma possiamo vedere Anche cosa Troviamo in questa cesta Eh Oh 4 mele op C'è assurdo Gambali Questi li mettiamo Per i pigli Non si sa mai Oh golden apple Fai il charge E un blocco Di ossidiana Mettiamo il blocco Di ossidiana E possiamo Aprire il portale Ragazzi Attenzione 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 Che sta andando Molto bene Allora Vediamo cosa Troviamo adesso Oh Ma salve Salve frate Come stai Cosa ci fa Un my alien land Comunque C'è una chest Ehm È un regalo Per me Presumo Lo sia Perché è davanti Al portale Comunque Apriamo il tuo regalo Grazie mille Gino Eeeh 16 Eeeh 16 E 11 Enderpelle Grazie mille Gino Non dovevi Comunque Adesso dobbiamo cercare Le blaze road Grazie mille Gino Oh Una fortezza Cavoli Andiamo subito Verso quella fortezza Vediamo un po' Se ci sarà Uno spawn Di blaze E poi ragazzi Vi faccio vedere Un trick Che ho scoperto Qua c'è uno spawner Oh Assurdo Però non spawnano I blaze Perché Vabbè Comunque Ehm Direi Di rompere Questo spawner E poi se rompete Due blocchi giù Dovrebbe esserci Una chest segreta Guardate ragazzi Ragazzi Cioè io l'avevo detto Io l'avevo detto Che c'era una chest segreta 27 blaze road Ragazzi che cosa vi faccio scoprire Crafting table Vediamo Facciamo così Così Bruh 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 Ah Ah dimenticavo Ok 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 scusate 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 Mi sento abbastanza stupido In questo momento Mi sento Mi sento abbastanza stupido Teniamoci questo Grazie ancora Gino Non dovevi Ok Allora No 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 Speriamo ragazzi Speriamo bene Non lo so ragazzi Sto avendo qualche dubbio Oh my god Oh Attenzione Oh Antonio Ma salve Antonio Salve Se hai degli occhi Può andare pure dal drago Grazie Antonio Non dovevi Oh Mi avevi messo pure già degli occhi Ma non dovevi Antonio Grazie Grazie mille Antonio Ehm Ti dono questi occhi qua in più Che avevo Grazie mille Ci vediamo Dopo che ho sconfitto Il drago Ok ragazzi Siamo nel land Sono troppo forte Sono veramente Troppo 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 Forte Ok ragazzi Sono pronto per il combattimento Mangiamoci questa Mela Assurda Ok Andiamo verso Il portale centrale Il drago è già lì Ma chi è quello? Chi è quello lì? Oh cavoli Oh cavoli Scappo via E chi sei te? Gianni Ciao Gianni Salve signor Dadedan Salve Gianni Sì Let's go Ragazzi Grazie mille Gianni No Ragazzi Grazie mille Ragazzi Tempi record Ragazzi Tempi record Ragazzi Ragazzi Grazie mille Ragazzi Ragazzi Grazie a tutti